Da interessa tedesco c'ho un'ansia pazzesca E mi sti fattig machen! E mi sti ostanda nehm! Ragazzi la grinta cucca c'è e da italo tedesco posso portarvi di nuovo il format da tedesco Vi spiego, vi racconto il perché Un format un po' interculturale dove io che mi sono inserito qui da spia in Germania Vi posso sempre dare delle informazioni che possano essere utili Oggi lo facciamo riguardando il Bayer Leverkusen Vi spiego tutto quello che dovete sapere sulla squadra di Peter Bosch Quanto sono forti, quali sono i punti forti, quali sono i punti deboli Come giocano tatticamente eccetera ragazzi Parleremo di tutto, vi posso già dire che c'ho un'ansia pazzesca Anche quando sento le parole del mio connazionale Andy Brehm Ex terzino dell'FC internazionale in Milano Secondo me uno dei terzini migliori che abbiamo avuto in tutti i tempi Campione del mondo nel 1990 con la nazionale tedesca Che secondo lui chi vincerà fra Bayer Leverkusen e fra l'Inter Sarà anche la squadra che poi alla fine vincerà l'Europa League Secondo lui sono le due squadre rimaste più forti in assoluto Mamma mia ragazzi, già lui mi mette un'ansia veramente incredibile Perciò vai, vamos, andiamo ad analizzare bene il Bayer Leverkusen Leverkusen ha battuto il Bayer Monaco con una doppietta di Bailey Partita fantastica, ha battuto in questa stagione il Borussia Dortmund 4 a 3 Perciò giocano un calcio offensivo spettacolare Poi due pareggi contro il Lipsia di Nuggetsman Un altro pazzo cruco ragazzi, un giorno vi farò un video su di lui Che è diventato all'età di 28 anni allenatore in Bundesliga Ha 28 anni, cioè è veramente qualcosa di assurdo Un giorno faremo un racconto sportivo anche riguardando lui Che poi proponge, lui veramente vive un calcio molto offensivo Una visione di gioco secondo me molto futuristica Che un giorno, ripeto, ne faremo un video a riguardo Comunque l'Herbie Lipsia ad inizio stagione ha giocato un calcio fantastico E tanti si aspettavano addirittura che potesse vincere la Bundesliga Alla fine poi purtroppo è crollato Ma comunque il Bayern Leverkusen ha fatto anche bene contro l'Ipsia Due pareggi anche all'andata della Bundesliga Dove l'Ipsia stava veramente giocando un gran bel calcio Dall'altra parte manca un po' la costanza al Bayern Leverkusen Per esempio per l'ultima giornata hanno perso contro il Hertha Bestseperlin Nessuno se lo aspettava E hanno perso la qualificazione per la Champions League E poi è arrivato il Borussia Mönchengladbach Ce l'ha fatta di arrivare, di tornare in Champions League Alla fine sono solo stati due punti di distacco Comunque è una cosa strana Perché ci hanno come due facce Ogni tanto contro delle grandi squadre Fanno delle prestazioni incredibili Una cosa simile l'abbiamo visto anche nella finale della Coppa tedesca Primo tempo veramente vergognoso Sembrava Bayern Monaco contro una squadra piccola Medio-bassa Cioè non giocavano senza fiducia Senza grinta Proprio non facevano niente Secondo tempo hanno stradominato il Bayern Monaco Follans ha mangiato un gol Stile Gagliadini Perciò secondo me Se avesse segnato quel gol Poteva veramente anche cambiare Tutta la partita La poteva anche vincere Il Bayern Leverkus Perciò manca un po' la costanza Frutto forse anche dell'età molto giovane Tutta la squadra C'ha una media di due anni meno dell'Inter Però parliamoci chiaro Anche l'Inter in questa stagione Spesso ha fatto vedere due facce Tipo a Dortmund ragazzi Abbiamo stradominato il Borussia Dortmund Abbiamo stradominato il Barcellona Al Camp Nou E poi dopo siamo sempre Gollati Perciò sono curioso Ma penso Se vediamo due squadre Al top Sarà una partita Abbastanza equilibrata Una partita secondo me Molto molto intensa Molto molto interessante Che però sono convinto Che l'Inter vincerà Anche a livello tattico Secondo me Il Bayern Leverkus È una squadra Che ci può anche stare Perché noi spesso Abbiamo anche fatto fatica Contro le squadre Che si chiudono E noi poi dobbiamo costruire Con il Leverkus Non sarà così Leverkus In fase defensiva Non sono perfetti Tra le top 5 squadre In Bundesliga È la squadra Che ha subito Più gol In assoluto Perciò secondo me Anche in ripartenza Con un Romulo Lukaku Ragazzi che lo sapete Rende molto meglio Quando c'è il campo aperto Nei contropiedi Quando poi si sposta Sulla fascia Si accentra Eccetera Secondo me Potremmo anche fare bene Però ci vuole Tanta tanta disciplina Soprattutto in fase difensiva Perché adesso ragazzi Andremo un po' Ad analizzare Come funziona Questa macchina da guerra Lì in fase offensiva Del Bayern Leverkus Soprattutto con Kai de Kalashnikov Havertz Un giocatore incredibile Ma sono anche Molto molto forti Gli esterni Del Bayern Leverkus Storicamente Prima che poi Andiamo un po' A parlare Delle cose tattiche Storicamente Purtroppo Ci unisce qualcosa Ci unisce il dolore Ci unisce l'anno 2002 La stagione 2002 Che da interista 5 maggio Non c'è adesso bisogno Che vi spiego Cosa sia il successo Ma vi posso dire Quello che ha subito Un tifoso medio Del Bayern Leverkus È stato Due Tre Quattro Mille volte Peggio ragazzi Hanno perso In dodici giorni Tutto Tutto tranne la vita Hanno perso Veramente tutto Hanno perso il campionato tedesco All'ultima giornata Una cosa che nessuno Se lo aspettava Hanno perso la finale Della Coppa tedesca Hanno perso la finale Della Champions League Contro il Real Madrid Di Zidane Forse vi ricordate Quel gol Quella palla Che cade dal cielo Non so da dove arrivava Arrivava dalle stelle E Zidane Al volo La mette dentro Volley Tropki Con tiro Pazzesco E poi c'era Michel Balla Che quell'anno Ha perso Anche la finale Della Coppa del Mondo C'è quattro competizioni Persi Sempre all'ultimo Contro Ronaldo Contro il Fenomeno Contro il Brazil Comunque una nata Assurda E da quel momento in poi In Germania Noi li chiamiamo solo Fitzkusen Non Leverkusen Non esiste più Ufficialmente Chiuso ragazzi Questi qui ormai Si chiamano Fitzkusen Perché sono sempre Secondi Arrivano sempre Secondi 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 E non vincono mai niente Mi pare hanno vinto Una Coppa tedesca E una Coppa EFA Ma per il resto Non hanno mai vinto niente Stranamente avevano sempre Dei grandi giocatori Anche nel passato Ripeto Ballack Se Roberto Lucio Che poi dopo è andato All'Inter Del Triblet Hans Jörgput Che poi spesso Non sono riusciti a vincere Spesso poi Il Bayern Monaco Come al solito Si è preso Tutti i giocatori Questo è un po' La storia Tragica Del Bayern Leverkusen Che puntano sempre Molto sui giovani C'erano sempre Bei giovani Talenti Tanti giocatori Che poi dopo Vanno anche a giocare Nella nazionale tedesca Adesso nel passato Per esempio C'era anche Prant Un po' simbolico Purtroppo Purtroppo non sono riusciti A tenerlo Andato al Dortmund Havertz Ragazzi Kai Havertz Già tutto fatto Con il Chelsea O diciamo 90% Già fatto E perciò Tantissimi giocatori Giovani Però purtroppo Spesso Non riescono A tenerli Adesso però Ragazzi Siamo arrivati al punto Dove parliamo Del calcio giocato Bosch Il Bayern Leverkusen Gioca un calcio Offensivo Un calcio Spettacolare Un calcio Bello Bello da vedere Che ti fa veramente gioire Che ti fa innamorare Nel calcio Grande qualità Nel giro palla Per distruggere La struttura Dell'avversario Tanti passaggi corti E poi Gli esterni Occhio agli esterni Del Bayern Leverkusen Che secondo me Sono devastanti Sono molto Molto forti E spesso Sono posizionati Tantissimo In alto Cioè Non solo in alto Ma si allargano Anche tanto Allargano tantissimo Il campo E il problema È che loro Sono molto Molto rapidi C'hanno un'accelerazione Fantastica Sui primi metri E perciò Spesso i terzini C'hanno paura C'hanno paura Di andare Nell'uno contro uno Contro di loro C'hanno paura Giustamente Di concedergli spazio E perciò Spesso i terzini Gli seguono Anche noi Domani lo dobbiamo fare Ragazzi Voglio vedere Che veramente A loro Non dobbiamo concedere Nessun spazio Dobbiamo anche seguire Al gabinetto Da per tutto Non voglio concedere Nessun spazio A questi giocatori Tipo Diabi Rapido Ma quello che poi Spesso succede Tu segui A loro E perciò Allargano tutto E ovviamente Nella difesa Poi c'è un buco No? E poi C'è anche sempre Kevin Folland Che fa il centravanti Al Bayer Leverkusen Poi era infortunato Kai Havertz Può coprire un po' tutto Ragazzi Mezzala Esterno Punta Falso nuovo Può fare un po' tutto Però normalmente Quando Folland Può giocare Non è infortunato Gioca lui Come centravanti Perché secondo me Anche Havertz Quando sta sulla 10 O quando sta un po' più indietro Rende ancora di più Perciò penso che domani Dovrebbe giocare Kevin Folland Che è un giocatore Di quantità Un giocatore Tecnicamente un po' limitato Però fa sempre Dei discreti numeri A livello di gol I suoi gol Li segna E soprattutto Un giocatore di sacrificio Che si muove tantissimo Fra le linee E perciò dovete Pensare Pensate davanti ai vostri occhi Quando li chiudete Ci sono Ripeto Gli esterni Che allargano il campo E poi c'è questo Kevin Folland Che si muove Si muove Si muove tantissimo E spesso lui In qualche modo Gioca quasi Contro due giocatori Ci sono quasi due giocatori Che in qualche modo Provano a stopparlo A fermarlo Provano a seguirlo Perciò lui occupa Spesso due Difensori centrali E perciò poi Qui c'è veramente Un buco Un grande buco In questo buco Spesso ci sono Gli inserimenti Dei centrocampisti Per esempio Anche di Havertz O anche dei giocatori Che giocano ancora più in basso Che poi Vanno Attaccano a profondità Ci sono queste Diagonalizzazioni Anche su Kai Havertz Che poi entrano In questa profondità Oppure anche gli esterni Anche dall'altra parte Che entrano Si accentrano Oppure in generale Anche l'esterno Con il pallone Fra i piedi Si accentrano Come lo fa spesso Di Abi Da destra Si accentra E poi tira Con il piede Sinistro Secondo me L'Inter Dovrà veramente Non concedere Gli spazio E perciò Facciamo bene In fase difensiva Di giocare Con la nostra Linea A5 Così possiamo Coprire bene Gli esterni E poi anche Nel centro Rendere tutto Molto molto stretto Siamo ancora Un uomo in più Visto che giochiamo Con la difesa A5 Ovviamente Poi Nella transizione Quando siamo in possesso Di palla Dobbiamo allargarci Voglio vedere Anche i terzi Che poi salgono Che fanno i movimenti Voglio vedere I centrocampisti Che poi danno anche Copertura Se uno sale Che poi si tirano Anche indietro Questo è ben chiaro Però in fase difensiva Voglio rivedere Un'Inter Un'Inter bella tosta Inter bella stabile Abbiamo 5 clean sheet Nelle ultime 5 partite Perciò io mi confido Della nostra difesa Che sta andando Sempre sempre meglio Perciò sono fiducioso Se giochiamo Con grande disciplina E poi Contropiedi Eccetera Campo aperto Lo sappiamo Che il Romero Lukaku Per esempio Rende ancora Molto molto Meglio Secondo me Possiamo battere Il Bayer Leverkusen Attenzione Ripeto Agli esterni DAB Per esempio ragazzi Abbastanza basso 1,70m Ma molto rapido Accelerazione pazzesca Sui primi metri Attacca sempre la profondità Oppure si accenta Come l'ho già detto L'unica cosa che ho notato Lui spesso Esagera un po' Con i dribbling Rischia un po' Troppo Qui ovviamente Dobbiamo subito intervenire Un ragazzo ancora molto giovane Spesso un po' Troppo innamorato Nel Nel pallone Meno male Arranghi Se adesso non mi sbaglio Domani Non potrà giocare Perché lui gioca lì A centro campo Ma c'ha anche un po' Di qualità E poi ripeto Fa spesso anche Questi inserimenti Giocherà Baumgartling Ragazzo austriaco Molto bravo A fare le cotolette Calcisticamente Un po' Meno Non è un brutto Calciatore Però diciamo Quello che è un po' Gagliadini per l'Inter Spesso Tanti tifosi del Bayer Leverkusen Dicono a lui Manca un po' La qualità La qualità tecnica Questo potrà E sarà sicuramente Un piccolo Piccolo vantaggio In generale In fase difensiva Il Bayer Leverkusen Non è forte Come in fase offensiva In questa stagione E' tra le top 5 squadre Quella che ha subito Più goli In assoluto 44 in 34 partite Hanno una pausa Hanno una pausa Ormai da due settimane Questo onestamente Non so Se sia un vantaggio Svantaggio Da una parte Uno potrebbe dire Vabbè Sono più Hanno avuto Tutto il tempo Di fare niente Di rilassarsi Un pochino Eccetera Dall'altra parte Sapete che nel calcio Anche i ritmi Sono molto importanti L'Inter Secondo me si trova Adesso in un ritmo In un flow Positivo Visto che anche la difesa Finalmente sta di nuovo Funzionando bene Come ad inizio stagione Purtroppo eravamo Veramente Crollati A livello Difensivo Perciò non lo so Adesso se sarà Un vantaggio Svantaggio Questa pausa Da due settimane Düsseldorf Si trova molto vicino A Leverkusen Perciò sotto questo Punto di vista Sarà una partita A casa Piccolo vantaggio Forse Per il Bayer Leverkusen E poi ovviamente C'è Kai Havertz Ragazzi Che potremmo fare Un video intero Solo su di lui 213 partite 73 gol E 35 assist Non parliamo Della fine Carriera No ragazzi Parliamo di un ragazzo Che ha 21 anni Anche in Europa League Sempre devastato 10 partite 6 gol 5 assist Ripeto Può fare il trequartista Alla destra Punta centrale Molto flessibile Alcuni lo dicono Lui è un po' Un giocatore come Ferminio Cioè questi Centravanti Che nascono oggi Moderni Che praticamente Sanno fare tutto Anche Ferminio Giocava in Bundesliga Giocava come trequartista E poi dopo Ha fatto Centravanti Falso nuovo Eccetera Al Liverpool Ma secondo me È quasi un po' ridottivo Paragonarlo con Ferminio Perché Havertz È ancora Molto molto Di più Un giocatore Devastante A livello tecnico Quello che fa con la palla La sua visione di gioco Questi passaggi Filtranti Questi passaggi Pazzeschi Mi ricorda un po' Non so I numeri 10 Di una volta Divento quasi un po' Nostalgico Ma dall'altra parte Fa anche questi Inserimenti Che i numeri 10 Normalmente non li facevano Perciò In Kai Havertz C'è un po' Di Toni Gross Come gestisce la palla C'è un po' Di Mesut Özil Proprio a livello Come i assist Che fa Questi passaggi Filtranti Eccetera Ma c'è anche un po' Di Ballack Viene spesso anche Paragonato A Michel Ballack Che era un centrocampista Perché però Segnava una marea Di gol Tanti 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 gol Ultima stagione Kai Havertz Ha segnato 20 gol Da 19 anni Ragazzi Penso che ho detto Parlato abbastanza Di lui Il più giovane Deputante Nella storia Della Bundesliga Il più giovane Ad aver raggiunto Le 50 presenze Nel massimo Campionato tedesco Il più giovane Che ha fatto Più gol Cioè No in generale Il più giovane Marcatore Attenzione Anche nella storia Del Bayern Leverkusen Havertz L'unico giocatore Della storia Della Bundesliga A segnare Almeno 34 gol Prima del suo Ventunesimo Compleanno Perciò veramente Tanta tanta roba Secondo me Rende migliore Come trequartista O diciamolo così Spesso Il Bayern Leverkusen Gli dà Piena libertà Spesso Lui è un giocatore Che può fare Quello che vuole Anche quando gioca Come trequartista Spesso Gioca anche come Mezzala Qualche minuto Si prende i palloni In basso O viene proprio All'altezza Della difesa A prendersi i palloni Alcune volte Si sposta Sulla fascia La cosa bella Poi Che ripeto Lui fa tanti gol Come lo fece Anche Michel Balak Ma è anche Abbastanza rapido È anche abbastanza rapido Perciò in teoria Può anche giocare Sulle fasce Un giocatore incredibilmente Incredibilmente completo Che ripeto Andrà sicuramente Al Chelsea Complimenti Comunque al Bayern Leverkusen Che hanno gestito Molto bene La situazione Sono consapevoli Che non lo potranno Tenere Però Rudy Föller Probabilmente in Italia Ve lo ricordate Ancora ex giocatore Della Roma Ormai direttore Generale Dell'Leverkusen Lui l'ha sempre detto L'ha sempre ripetuto Finché La stagione Non è terminata Lui è un po' Old school Finché non è terminata L'ultima partita Io non parlo Non parlo Di Kai Havertz E Kai Havertz Lo sa Che quando arriva La cifra giusta Mi pare intorno Ai 100 milioni di euro Il Leverkusen Lo lascerà andare Ma prima Si conclude Si finisce La stagione Kai Havertz È un ragazzo Abbastanza chiuso Perciò lui è uno Che secondo me Abbiamo visto anche Dopo il lockdown Dove si giocava Senza difosi Lui spesso Ha reso ancora meglio Ragazzi Quando non c'erano troppe problemiche Troppe problematiche Troppe discussioni Eccetera Secondo me lui ha fatto ancora Ancora meglio E perciò Per la sua giovane età È stata anche una cosa positiva Che lui abbia giocato Al Bayern Leverkusen E non al Bayern Al Bayern Monaco O per esempio Al Dortmund Pensate Se avesse giocato lì Lì adesso Veramente Non avrebbe neanche un minuto Un po' tranquillo Eccetera Invece qui a Leverkusen Ormai tutti quanti L'hanno accettato Che lui andrà Al Chelsea Però nessuno parla E si concentrano Su queste ultime partite Perciò Occhio domani A Kai De Kalashnikov Ragazzi Un giocatore Devastante Se avete altre domande Scrivetelo nei commenti Ragazzi Vi rispondo Molto molto Volentieri Sempre forza Inter Ci vediamo domani Nella diretta Andiamo a commentare Insieme Leverkusen Contro L'Inter Che sarà ovviamente Per me Da italo tedesco Un'emozione Una partita Molto molto speciale Vi mando un forte abbraccio Ragazzi Sempre Viva il calcio Sport più bello del mondo Vi voglio bene